Concessionari all'auto a Delebbio Assunzione a contratto determinato, sì, ma per solo quattro giorni. È l'assurda situazione in cui si trovano, in seguito all'abolizione dei voucher avvenuta lo scorso marzo, le piccole aziende agricole di Valterina e Varchiavenna, impegnate in queste settimane con la vendemmia e la raccolta delle mele. Dopo dieci anni, i buoni lavoro erano stati introdotti nel 2008 proprio per cercare di agevolare le operazioni di raccolta delle uve. Le imprese locali dei coltivatori sono costrette ad impiegare forza lavoro con modalità alternative. A squarciare il velo su questa difficile situazione è la responsabile del servizio paghe di Coldiretti, Nadia della Maddalena. Impossibile per gli agricoltori l'utilizzo dei presto, i rinnovati voucher introdotti a luglio dal governo. Sembra un paradosso, ma la loro procedura di attivazione e di utilizzo sono troppo complesse per le nostre realtà. Non sono riusciti a utilizzarli proprio perché molti sono i paletti che sono stati imposti, tra cui la mancanza di possibilità delle aziende piccole, al di sotto dei 7 mila euro, di utilizzare prestatori diversi, mentre ha limitato i prestatori ai pensionati, agli studenti e ai casi integrati comunque i portatori di integrazione di reddito. L'ennesimo salasso per gli agricoltori. Sì, perché tutto il costo diciamo burocratico della pratica, quindi l'assunzione, il CUD, il 7,70, ricade sull'azienda, mentre poteva essere tranquillamente con il voucher risolto senza incidere ulteriormente sui costi.